Musica Incidente oggi, giovedì 28 dicembre, intorno alle 12, in via Caporal Cattaneo a Fabria. Nella strettoia si sono scontrate una Fesmultiple condotta da un 60enne di Barbania e una BMW 320 condotta da un 44enne di Rivarolo Canavese. L'impatto è stato alquanto violento. La ruota della multiple è rimasta agganciata a quella del BMW tracciandosi di netto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Rivarolo Canavese e la Croce Rossa. Il conducente della multiple è stato trasportato in ospedale a Quarnier. La causa dell'incidente potrebbe ricondurse al malore dell'uomo il quale ha perso il controllo della vettura e dopo aver impattato contro il muletto è finito contro la BMW, ma gli accertamenti sono in corso. Grazie a tutti.